Oggi abbiamo con noi Giovanni Scaglione, buonasera. Buonasera a tutti. Allora, parliamo appunto di arte visiva. Tante sono, diciamo così, le mansioni, perdona questo termine, da artigiano, insomma. È un buon lavoro artigianale. È certo, una volta gli artisti venivano chiamati artigiani. C'erano le botteghe. C'erano le botteghe. Oggi stanno morendo, ma c'erano le botteghe. Esatto, bravo. Oggi stanno morendo. Poi, insomma, quando si parla di botteghe artigianato, arte a Roma, ti viene ancora di più il magone, no? Pensare, insomma, a quello che c'era fino a 50 anni fa. Comunque, Giovanni Scaglione, appunto, si occupa di arte visiva. Inizia come scenografo, mi dicono. La mia formazione è proprio come scenografo presso l'Accademia di Brera a Milano. Io ho lasciato la mia, sono siciliano, ho lasciato la Sicilia, sono andato a fare il liceo artistico a Genova, poi l'Accademia a Milano, Brera. Ma hai lasciato anche il dialetto, però, perché non me ne ero nemmeno accorto. È passato talmente tanto tempo. Siciliano, scusa, a questo punto toglimi di dove? Nella provincia di Caltanissetta, di Riesi. Ok. Però, dopo le medie, è iniziata la mia migrazione, diciamo. Ok. Quindi Genova-Milano, poi sono rimasto lì a lavorare per un periodo, finché non abbiamo deciso di spostarci a Roma. Benissimo, e quindi hai iniziato con la scenografia per teatro? Per cosa? Per, inizialmente, laboratori di scenografia televisiva, sostanzialmente. Poi qualche puntata, per quanto riguarda sia la progettazione che l'esecuzione di laboratorio per una compagnia teatrale siciliana. E purtroppo, come spesso accade, la legge dei finanziamenti, cioè la legge intendo, io direi, i problemi di finanziamenti, hanno messo i bastoni tra le ruote e quindi questo percorso si è un po' interrotto. Ma si è attivato un percorso che per me era inaspettato e che riguarda la decorazione di interni. Un settore che io non avevo mai valutato, anzi lo sottovalutavo addirittura. Ah, addirittura. Esattamente, l'ho riscoperto proprio mentre lo facevo. Ho riscoperto quale bellezza ci può essere nel decorare degli ambienti e personalizzarli. Naturalmente parliamo di ambienti di tutti i tipi, per cui lo spunto possibile è veramente ad ampio raggio. Ah, certo, ad ampio raggio, perché parliamo anche di un'abitazione. Parliamo di abitazioni, hotel, residenze importanti, per cui non si tratta di decorare l'oggettino in questo caso, ma di creare proprio un'immagine, una personalità ad ambienti interi. Delle scenografie poi in realtà, perché molti scenografi poi fanno anche la decorazione. Certo, quindi si crea un ponte tra queste due arti, così come poi esiste forse l'arte che le lega un po' a tutte, che è quella della pittura fondamentalmente. Sostanzialmente, sì. A cui ti stai dedicando in maniera abbastanza ripotente in questi ultimi anni. Ho deciso di riprendere un settore che avevo per motivi di tempo lasciato un pochettino da parte, ma è quello con cui sono partito tanti anni fa, che è quello della pittura su tela, comunque su supporti, diciamo quadri genericamente, e che intendo incrementare con tecniche nuove, con un linguaggio anche un pochettino più nuovo rispetto al passato, al mio passato, per un mercato ad ampio raggio. Cioè voglio dedicarmi a... adesso abbiamo il supporto di internet che ci aiuta tanto. Sì, dove ci si può fare veramente una vetrina online, un atelier. Ormai io vedo, avendo pubblicato molte cose su internet, che mi arrivano opinioni, pareri, apprezzamenti da tutte le parti del mondo. E questo per me è impressionante. Impressionante, è impressionante. Italia compresa? Un po' meno. Italia compresa, sì, però quello che mi impressiona è ricevere un parere positivo cinque minuti dopo aver pubblicato dalla Nuova Zelanda, o dall'Australia. Certo, quando si dice dall'altra parte del mondo, è fisicamente così proprio. Prima di internet questo, insomma, non sarebbe stato tanto facile. Impensabile, impensabile. Ovviamente vista anche dall'estero o dall'esterno, fare l'artista in Italia sarebbe un po' come fare il musicista a New Orleans. Eppure, eppure, in realtà, è dura campare di arte in Italia. È dura. È un paradosso, questo che ci portiamo avanti. È un paradosso assoluto, è vero. Da tanto tempo. Non essendo romano, dico ai romani sempre, quando... Che ci dici, Giova? Che ci dici? Dico sempre che voi, dovunque girate lo sguardo, guardate una pietra, c'è una storia. Certo. È proprio un riassunto, una sintesi perfetta di quello che è l'Italia, il patrimonio storico-artistico che abbiamo in Italia. Quindi, dovunque guardiamo, veramente ci possiamo ispirare. Il problema è che ormai è calata talmente l'attenzione verso questi argomenti, che purtroppo si guarda tutto così, come se si guardasse il palazzo delle poste degli anni 80-70. Non si fa differenza veramente dal condominio con tutto il rispetto. Più attenzione dall'estero che da parte di certi canali, anche privilegiati italiani. Esatto. Esatto. Oh, ovviamente, proviamo a descrivere anche un po' quello che è il tuo senso della pittura, insomma, quello che esprimi. Innanzitutto, è un astratto, è un figurativo? Che cosa racconti sostanzialmente con la pittura? Diciamo che, per quanto riguarda la produzione di quadri, cosiddetti genericamente, uso un linguaggio che è molto più libero rispetto a quello usato nel campo della decorazione. La decorazione vive sostanzialmente, si nutre ancora di, negli ultimi anni un po' meno, ma comunque di elementi che vengono dall'arte classica, per cui, che ne so, la greca, la foglia d'acanto, insomma, per intenderci molto sinteticamente, degli ornati in generale. Negli ultimi anni si lavora anche con le patine, quindi con un'espressione creativa un po' più libera, anche negli ambienti. Ma nei quadri si usa un linguaggio un pochettino più personale, per cui ci si sbizzarisce un po' di più. Personalmente uso un linguaggio poco figurativo, ossia figurativo e ispirato, diciamo, alla realtà, ma non è mai una riproduzione pure semplice del reale, o comunque molto basato sul segno, sul colore, sull'effetto grafico e sulla combinazione di materiali. Materiali diversi che vengono accostati, cucite, addirittura in certi casi le tele o assemblate delle tavole, di riciclo spesso, per cui già questi supporti hanno di per sé una funzione estetica, oltre che materica. E da lì si parte. Quindi segno, colore, espressione più gestuale. Perfetto. Tutto questo, come accennavo in apertura, lo insegna anche, domande? Cioè, so che insegni arte. Sì, negli ultimi anni. Negli ultimi anni mi sono dedicato un po' all'insegnamento anche nelle scuole pubbliche, eccetera. Ah, di storico dell'arte? No, no, proprio di disegno. Di disegno, di disegno dell'arte, parliamo delle scuole pubbliche. Perché non si va troppo, diciamo, nel dettaglio. Certo. Ma la mia attività principale, l'attività, io dico che per insegnare certe cose le devi fare. Non puoi passare dalla teoria alla teoria. No, è difficilissimo. Anche per insegnare, non è detto che si sappia insegnare qualcosa che si sa fare. Cioè, insegnare è una dote, secondo me, in più. Ah, sì, sono d'accordo. Non tutti sanno insegnare quello che anche conoscono perfettamente. Ci vuole quella dote comunicativa, quel mood espressivo che... Bisogna imparare. Quello si impara anche, sì, si impara anche quello. Si affina pure quello, però è ovvio che gli artisti sono un pochettino anche gelosi poi delle proprie cose. E vorrei vedere. È anche giusto che sia così, insomma. Allora, hai, non so, tu hai parlato prima di internet, la possibilità di esporre qualcosa? Ad ora? Sì, sì, una mostra? Beh, ho diversi inviti. Solitamente tra quelli che ricevo, appunto, ho deciso di fare una scelta molto selettiva. Per cui l'80-90% degli inviti non li accetto. Sarò presuntoso, non li accetto. Mi interessa invece fare un lavoro di selezione, magari poche mostre. Ma buone. Sì, esattamente. Anche all'estero. Poche ma buone. Benissimo, Giovanni, è stato un piacere. Ti auguro. Insomma, sei andato in vacanza? Devi andare, andrai, non lo sai. Una settimana, tra pochi giorni. Comunque, a prescindere, buone estate, buone vacanze. Grazie. A Giovanni Scaglione, grazie. Grazie anche a voi. Scriviti, grazie a voi. Scriviti, grazie a voi. Grazie. Grazie a tutti.